A te, oh Vergine e Martire Augusta, che sei l'altro più fulgito del nostro cielo, a te sale devota e fiduciosa la preghiera dei tuoi concittadini che ti hanno eletta loro padrona e che in te ripongono tutte le loro speranze, simbolo e impedituro di candore e di fede, di carità e di fortezza, risplendi sulle anime nostre che purtroppo fra tanti disordini non sentono e non gustano come dovrebbero il grande ideale cristiano, benedici ciascuno di noi, le nostre famiglie, le cose nostre, dal cielo veglia sulla tua città e sulla dioce, sul pastore e sul greco, oh gloriosa Santa Lucia, che morendo hai preannunciata la pace ed il trionfo della chiesa, contieni da Dio la pace delle nostre, delle anime nostre e della società, il trionfo della fede, la santificazione di noi tutti e dopo la prova della vita il cauto di raggiungerti di raggiungerti la pace ed il trionfo della vita, il padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua bontà, come il cielo e il cielo e il cielo, darci oggi il nostro pane e il figlio, rimetti a noi i nostri detti, come dormite a noi, l'abbiamo avert in noi, l'abbiamo avert in noi, mi Artemisia делает cradillo, i nostri detti, come fascia salata, si è theta, la luce sets, piccati, migrif Clooh, swissima condannio lui Defasto spirituale, il tuo nome, Il cuore giovane hai lasciato di me e ti ha donato ai poveri e ai macchine di Gesù. Benedetta sei Lucia, come luce rispendi tra noi, guida presto tuo popolo a donarsi al Cristo Gesù. Benedetta sei Lucia, come luce rispendi tra noi, guida presto tuo popolo a donarsi al Cristo Gesù. Benedetta sei Lucia, come luce rispendi tra noi, guida presto tuo popolo a donarsi al Cristo Gesù. Il cuore giovane hai lasciato di me e ti ha dato a questo mondo. Benedetta sei Lucia, come luce mi sprende. 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 sono due frammenti del polso, del polso della cannella del polso sinistro. Nel 1650 di Siracusaia, tramite il frai con l'ascenso Marcinoi, che era un fratto a capulcino provinciale di Tartagenoio, chieso la Venezia, le religie, anzi, chieso la Venezia, il colpo. Venezia, disse di noi. E tra i ascenso Marcinoi, che era un poco venti, non so quanto, un uomo d'estato, riuscì ad avere queste due religie, da avere famiglie, mobiliari, regnani, e che svolgono dentro una famiglia d'effetto. E dal 1650, diamo nel 304, la donna non contava niente, il matrimonio era imposta. Questa ragazzina ha un metro e quaranta, un'imporata, il divino, io non mi sposo. E sapete questo cosa ha comportato? Potrà essere devocato e credente in Cristo. È la morte. è la morte ancora più solo. Tra voi pensate che Lucia viene benvenziata dal fidanzato. Benedetta sei Lucia, come luce risplendita a noi. Grazie. Grazie.